Un convegno su Sergio del Santo, perché chi era Sergio del Santo e perché questo legame con la Contessa di Castiglione? È interessante la domanda, nel senso che Sergio del Santo è stato un grande studioso appassionato di Spezia, qualcuno dice innamorato di Spezia, certo innamorato di sua moglie, in primo luogo che è stata sempre la sua compagna non solo di vita ma anche di studio e di lavoro, ma innamorato di questa città che ha studiato partendo dai particolari, particolari anche curiosi, sconosciuti a tanti, come quando ha rilanciato la notizia, proprio notizia, che oltre al patrono San Giuseppe Spezia è anche un compatrono che è San Francesco Saverio. In questo contesto quella che si può definire proprio una passione per lo studio della Contessa di Castiglione non è peregrina, non è una cosa strana, è la riscoperta di un personaggio che come si può dire anche Spezia aveva un'anima, ha un'anima, anche la Contessa aveva un'anima, non solo un corpo, non solo una fascino esteriore, come purtroppo spesso è stata dipinta come avente esclusivamente quello, ma aveva anche un'anima, era cioè un personaggio molto complesso e quindi molto interessante, al di là di ogni retorica patriottica, non patriottica, al risorgimento, un personaggio interessante che aveva in questo radici profonde e legami con una città che ha subito tante trasformazioni. Ecco, in questo senso Del Santo è stato negli ultimi tempi forse proprio un eponimo di questa città. Siamo con l'organizzatrice di questa giornata in ricordo di Sergio Del Santo, ma anche un'occasione per commemorare la Contessa di Castiglione. Questa targa che verrà posta oggi è finalmente un raggiungimento per me, perché a me piaceva che ci fosse qualcosa che ricordava Virginia. È una targa che ho da un anno più o meno nel cassetto e aspettavo un bel evento per celebrarla, per inaugurarla e donarla alla cittadinanza, così come ho sempre cercato di fare con gli eventi organizzati insieme alla mia associazione, l'associazione Virginia Oldoini Contessa di Castiglione in questa casa che la ricorda e che lei amava molto, la sua montagna. Un'importante collezione di documenti, anche storici, lettere originali della famiglia della Contessa di Castiglione. Beh, diciamo alcune sono originali, perché non è facile trovare lettere della Castiglione, soprattutto trovandole hanno anche un prezzo piuttosto elevato. La collezione è una collezione privata, in quanto tempo l'avete raccolta lei e suo marito? Guardi, io direi che questo amore, devo dire amore perché come tutti mi dicono, ma tuo marito era un innamorato della Castiglione, sarà iniziato diciamo verso gli anni 90, e lui ha iniziato proprio perché è un personaggio spezzino e quindi ha incominciato a raccogliere tanto sulla Contessa, ha incominciato e io mi ci sono appassionata insieme a lui, anche perché, sono sincera, non lo volevo lasciare con la Contessa. Grazie.